Parità 1-1 nel primo derby in assoluto tra Ovidiana e Moronese, valevole per l'andata della Coppa Abruzzo. Le due realtà peligne, con una categoria di differenze ed entrambe neopromosse, sono apparse subito concentrate, con l'intento di fare bella figura davanti ad una buona cordice di pubblico allo Stadio Pallozzi. L'Ovidiana crea nei primi minuti una buona opportunità, ma Pagliaroli dentro l'area calcia fuori visura. Gol mangiato, gol subito perché al ventitresimo la Moronese passa in vantaggio grazie ad una punizione di Liberatore con la palla che colpisce prima la traversa e poi la schiena di Imperatore. I sostenitori ospiti applaudono ancora il bomber quando al trentatresimo manda di poco a lato. Un minuto dopo si vedono i biancorossi con un'azione manovrata che si conclude con il tiro di Pallozzi di poco fuori. Al quarantesimo Baccari su punizione, para Musella, nel finale prova nuovamente a salire in cattedra Liberatore che prima sugli sviluppi di una punizione cerca di sorprendere Imperatore e poi la mette dentro dopo essersi proaiutato con una mano. La ripresa si avre con tre cambi insieme da parte dell'Ovidiana, fuori Pagliaroli, Gasbarro e Baccari, dentro Romanelli, Lavelle e Agnitelli. Si fa subito sentire il peso in avanti di Ezio Romanelli, al terzo reclama un intervento in area della cività. Il rigore c'è invece qualche minuto dopo quando l'arbitro Cosmin Filippo Dumea di Sulmona pulisce una spinta del numero 19 della Moronese sull'attaccante biancorosso che per ora al dischetto si vede respingere il suo tiro da Musella che con un piede manda in corno. La grande prudezza del portiere viene però vanificata dal conseguente calcio d'angolo. Dopo la battuta di Lavelle, Pezzi prova a chiudere Pallozzi che realizza il gol dell'1-1. L'Ovidiana galvanizzata dalla rete ci prova con Di Bacco servito da un assist di Alosi ma para Musella e negli istanti successivi con un diagonale di Romanelli. Al ventesimo la squadra di Ricardilli resta in dieci per un fallo da doppia munizione di Bozzolini che viene espulso. Al ventunesimo si rivede Liberatore che prova a superare Imperatore ma andandoli poco a lato. Due minuti dopo né Dante né Pezzi riescono a fermare Romanelli ma l'attaccante in aria vede infrangersi la sua iniziativa da un Musella in strepitosa forma che ha rimpiazzato degnamente Gianluca Torre. Alla mezz'ora la Moronese reclama un fallo di mano in area di Pallozzi. Al quarantesimo l'espulsione di Pezzi della Moronese ristabilisce la parità numerica in campo. Nel finale Agnitelli lamenta uno sgambetto in area di Dante ma l'arbitro a due passi dice che non è rigore. Il risultato finale di 1-1 renderà ancora più avvincente il ritorno di domenica prossima che rappresenterà un vero e proprio spareggio. Di Sante, gran bella partita finita 1-1, era il derby che ci si aspettava. Sì, sicuramente la prima partita le squadre stanno ancora lavorando. Penso che alla fine il risultato sia sostanzialmente giusto anche se il primo tempo è stato più equilibrato. Il secondo tempo Lovidiana ha fatto sicuramente qualcosa in più. Però poi alla fine il risultato è uscito 1-1. Accettiamo quello che è stato il verdetto del campo e vediamo domenica prossima. Cardilli, gran bella partita con un Lovidiana sicuramente migliore nel secondo tempo. Sì, migliore nel secondo tempo perché abbiamo tenuto bene la partita. Con che sia si sentono ancora i carichi della preparazione che stiamo ancora facendo. Siamo usciti meglio al secondo tempo forse perché siamo riusciti a capire che potevamo farcela. Non si è vista tutta questa differenza di categorie, ma non per demerito dell'Ovidiana, dell'Oramoronese o del merito. Perché comunque sia sempre questo fatto del carico della preparazione rallenta un po' i ritmi. Questo teoricamente diciamo che è ancora un calcio d'estate, calcio d'agosto. E quindi ci siamo resi conto che potevamo fare di più e abbiamo dato qualcosa in più.